Cultura tecnica è scoperta. È energia. È osservare, trasformare e separare. È esaltante. È intensa. Non fa differenze di genere. La cultura tecnica è il mio futuro. La città metropolitana ha come obiettivo quello di sviluppare e sostenere la partecipazione delle ragazze a percorsi di tipo formativo e professionale che riguardano la tecnica, la scienza, la tecnologia. Abbiamo quindi ideato insieme al mondo della scuola e della formazione i Tecnoragazze Days, dei laboratori che vengono sviluppati nelle scuole ma anche in altri luoghi in cui con un metodo di peer education le ragazze più grandi o anche i ragazzi incontrano le giovani e i giovani della scuola secondaria di primo grado e quindi danno a loro un'idea di quello che è il futuro possibile e comunque dimostrano che ci sono opportunità, possibilità e anche possibilità di divertimento nella scuola e nella formazione frequentando percorsi che sono percorsi di tipo tecnico e professionale. Oggi facciamo fare degli esperimenti alle ragazze degli istituti secondari di primo grado per avvicinarle alla scienza e alla tecnica. Stiamo praticamente progettando un ponte e abbiamo fatto una sorta di sfida con dei ragazzi. Sono materie assolutamente fantastiche, chi le studia non deve essere per forza un uomo ma può essere chiunque, dato che il sapere è di tutti. Però alla fine non c'è un ambiente maschile o femminile, nel senso che le femmine possono fare benissimo quello che possono fare i maschi. Grazie!